Siamo con Paola Faggi, capitano centrale di Coppa Pederetti Bergamo. Un tuo parere su questa vittoria contro il Club Italia? È stata una partita molto dura, lo sapevamo in effetti. Sappiamo che loro giocano sempre alla grande, soprattutto in casa. Non hanno niente da perdere, quindi spesso mettono in difficoltà le squadre avversarie. Noi siamo un po' contate, siamo un po' messe in macchina fisicamente, quindi sapevamo che sarebbe stata dura. Secondo me siamo state bravissime a ribaltare il terzo set, che è stato forse quello decisivo, a rimanere concentrati perché eravamo indietro di molti punti, quindi a recuperare, a vincerlo e poi a chiudere la partita in quattro set, che era la cosa fondamentale per noi. A tuo parere qual è stata la mossa vincente da parte vostra o il punto di forza che ha fatto la differenza questa sera? Beh, contro di loro è molto importante mantenere la concentrazione alta perché loro riescono magari in un giro di battuta a recuperare tanti punti che hanno perso magari in altri frangenti. Quindi la grossa concentrazione e i pochi errori che ci hanno portato a vincere questa partita. Un'ultima cosa, poche partite, finisce la regular season e poi i play-off. Cosa ti aspetti dai play-off? Sì, i play-off sono sempre un campionato a parte rispetto alla regular season, quindi mi aspetto un po' di tutto. Adesso noi cercheremo di fare il possibile di rimanere in quarta posizione per avere un vantaggio campo, quantomeno.